Sono Marcella Carbonelli, Vice Presidente del Centro Sociale Antonio Montanari e abbiamo partecipato con un progetto a questo grande progetto Riapriamoci ed ci ha dato la possibilità di ampliare un progetto che già avevamo avviato ma con poca partecipazione. Il progetto si chiama Voglia di Vivere e sono persone fragili che si ritrovano al centro e fanno delle attività. Grazie al progetto Riapriamoci abbiamo potuto inserire altre cose, quindi li abbiamo già portati a una visita a un'oasi che si chiama Oasi dei Saperi, abbiamo in programma pranzi sociali, gli compriamo un computer dove familiarizzare un po' con la tecnologia e quindi stiamo avendo già molte più adesioni rispetto a prima. Era un progetto che già esisteva ma grazie al progetto Riapriamoci abbiamo potuto arricchirlo e quindi si sta arricchendo anche di persone, quindi bene, grazie e continuiamo a portare avanti questo progetto. Grazie mille.